Grigliate in famiglia o con amici, ma anche trattorie locali e tradizione, manca ormai poco a Ferragosto e molti cremonesi si preparano ad alcuni giorni all'insegna del relax e del divertimento, imprescindibile il buon cibo e la buona compagnia per ricaricare le energie in vista di settembre. Il mio programma è che non vado da nessuna parte e rimango a Cremona. Lo passo con mia figlia e mio fratello che facciamo una rimpatriata e facciamo gnocchi. Con amici e una grigliatina che dura praticamente da mezzogiorno fino a sera, qualche gioco e via. Cioè ormai non si punta più ad andare via perché c'è troppo casino. Saremo a casa con la nostra bambina e festeggeremo Ferragosto insieme in famiglia. Magari una grigliata e poi cerchiamo di recuperare un po' di ore di sonno perse con la bambina. Io quest'anno mangio in una trattoria qui vicino a casa mia. A Ferragosto passerò la giornata con amici, andrò a fare la classica bracciatina perché noi siamo anche di origini campane quindi a noi piace mangiare. Verranno anche i nostri cagnolini e passeremo la giornata in compagnia. Nonostante tutto c'è anche chi valigia alla mano e è pronto per qualche viaggio in Italia come all'estero. Quest'anno per Ferragosto ho deciso di fare un viaggio in treno. Andrò a Lausanna e poi dopo faremo un giro nei dintorni, sempre in treno perché è abitudine, viaggio in treno per Ferragosto. In Italia è bellissima quindi vale la pena visitarla. Io lo passerò in un bellissimo casale in Toscana con una mia carissima amica e con i miei cugini.